Eh beh me lo chiedete a me, anche se sono il segretario di Galliani io. Perché oggi era un po' arrabbiato. Ma sì? Mannaccio. Che è successo? E che vogliamo fare? C'è qualche cosa che possiamo fare? Destro per esempio, destro. Mi gira a destra. Mezzaroma ha detto che a lui farebbe piacere che andasse alla Roma. Ah, lo sì? Beh, avevo fatto di tutto per non farlo andare, arrivederci. Geno non cambia la proposta. No, no, no. Ma c'è ancora al Milano, a sud-destra? Ma non so chi sia, io ho già detto quello che ho, quello che devo dire l'ho già detto. Eh sì, il ragazzo, riusciremo a portarlo a Siena, c'è un'intesa con, 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 cioè portarlo a Geroe, c'è un'intesa con la Roma. Ve l'ho già detto. Quindi o Roma o Roma. Il Milano si è tolto. Il Milano si è tolto. La missione russo, invece, come sta andando? Poi c'è la volontà di ragazzo, ovviamente. Che? Sarebbe? Come vuole andare? Ma non lo so. Come so. A Gillardino ci sono novità? La missione russo, come sta andando? Quale missione russo? Novità su Gillardino? Merchere, Gillardino. Ragazzi, vi saluto, buona giornata. Grazie. Buongiorno. Grazie.